L'Eolio Music Fest è un esperimento folle artistico di espressione artistica costruito in un luogo in ospitale, fondamentalmente. Portiamo i musicisti e gli artisti ad esprimersi suonando e cantando sopra una barca. I punti chiave di questa edizione, la terza edizione dell'Eolio Music Fest, è quella di riuscire a creare un rapporto più acceso e più sinergico con la terra. Il festival nasce in acqua e per le prime due edizioni si svolge assolutamente in acqua con qualche piccola toccata sulla terra. Invece quest'anno, insieme al Giardino di Lipari, abbiamo instaurato un rapporto d'amicizia e di collaborazione che vede il festival arricchirsi di un palco B. Il main stage è la barca, il palco B sarà appunto il Giardino di Lipari e tutto quello che avverrà, sia sulla barca che a terra, in qualche modo saranno strettamente legati da un filo conduttore artistico. I musicisti che vengono qui generalmente vengono travolti da questo spettacolo naturale che abbiamo intorno. Il fatto di suonare su una barca in continuo movimento è una specie di bomba emotiva che ti stacca dall'abitudine che generalmente tu hai sul palco e ti obbliga ad un ragionamento, ti obbliga ad un'evoluzione, ti obbliga a giocare con il palco. Questa trasformazione viene presa dagli artisti, e io lo so perché sono stato uno dei primi mesi di dirmi qua sopra, ma poi anche perché mi hanno raccontato i miei colleghi. È come un po' ritornare agli albori della propria carriera, è un po' come ritornare al motivo per cui si sta sul palco, perché cancella in un momento tutta la tua storia, quello che tu hai memorizzato, quello che il tuo corpo ha memorizzato. Tutti quanti mi hanno ringraziato per l'esperienza, quindi sicuramente è un'enorme esperienza, molto travolgente anche dal punto di vista dei colori, della sensazione, dell'atmosfera, che poi si trasforma in spettacolo e arriva direttamente al pubblico. Questo è un po' il segreto delle Olimini Fest.